TORCO DEMONIO NEMICO IN A RIGO NELL'AREA SPOTIFY SPOTIFY Mi ha fatto togliere C'avevo i diritti Quelle canzoni di merda Della pubblicità C'avevo nei diritti Da autore Mi ha fatto bloccarla live Porco il loro demonio Guarda spero che Minchia gli venga la diarrea A tutti quelli di facebook A tutti A tutti deve venire la diarrea Ma pensa te A tutti Bambi Sì Bambi Sì Bambi 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 adesso leggo i messaggi raga scusate se ci sono è sempre più vicino ciao matti persico grazie per il like belli capito raga praticamente la pubblicità di spotify ma aveva i diritti quelle che stava mettendo e mi ha fatto bloccarla live parco il demonio adesso ogni volta che viene la pubblicità devo schipparla devo fare qualcosa adesso devo cancellare anche il video in diretta mortacci loro vaffangulu parco la nuova zona sicura nemico in arrivo nell'area alimentazioni di acquisto ritocchiate 3 2 credit Che schifo Smettila di fare il pirata Più forte di me non riesco Io non ho potere Pirata dei caraibi Sembra quello sicuro No 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 Quando avrò tempo A ottobre A novembre A dicembre No mi devo organizzare bro Non lo so Non lo so Lo sai che io gioco con i sub Non lo so Di torno non ho più disponibile Alla nuova zona sicura Assi in arrivo Mi sono distratto prima Vaffanculo Ciao Ale Grazie per il like Bello Minchia GG Appena staccato Che non ce l'ho dal 2001 Dove me Minchia Ola Bella Ale Com'è bra Bene bene Primo giorno di ferie Già mi chiamano Mi dice Ma non No No Fottetevi Ciao Ci sei andato Con 40 gradi No 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 bro Azz E' buono E' buono E' buono Ufficiale Senti inizio Premi No ormai hai diventato un pro Che stupidi Siete dei coglionazzi Anzi sei un coglionazzo Che Dico subito Gli acchi Mentre le mani Faccio Cagare Fai cagare Vabbè vai tra Se vuoi ci facciamo qualche game Se sei on line Giochiamo Dimmi Eh Juan Diritti d'autore Di quella merda Di spotify Posso dirlo Spotify Se è una merda Spotify Spotify Leonardo Grazie per il like Bello È proprio una merda Anche io sono on Grazie per il rilike Raga Dovrò cancellare le live di prima Perché c'è i diritti d'autore Dopo mi togli la monetizzazione Va Fankumam Che agonia Che agonia Grazie per il like Raga Grazie a tutti Raga Minchia, a dove lavori anche adesso? Caccia sti 5 euro, 2 canne, vrà Fatti una bella subete E nerdiamo, dai, minchia Tenete tutti nel cofanetto i soldoni Dai, cazzo! Non fare lo scrigno Dai, dai Andiamo Basso controllino, Ale, va bene? Sì, montai Bella, Jody Bla, 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 bla Lucida labbra La raffa Baraccio Bill, grazie per like Fabrizio, grazie per like Oh, 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 nelle frasche Mario, grazie per like Mario, grazie per like Mi montano La priorità è uccidere tutti i nemici Ehi, cazzo C'è abbiamo un log? Grazie per like Non d'incitore Caldano La prima Questa è una biosimiddata Sì Guarda ò Barca, barca, uno, due, due, barca Trassicurazione, bolle, revisione, il primo stipendio è bello gandato Ah, sì, tappo, mi sta di sì Un sanca a me Era uno Quale, vicino a... Quella barca Traccato l'altra qua dentro Cazzo Edoardo gioco solo con i sub Con chi supporta il canale, con chi abbonato, insomma Con chi paga Con chi paga Con chi molla il cash E adesso siamo full perché ho due posti Comunque, tra i tre ragazzi Andiamo su prison, tatone Aspetta, e lasciami i soldi Che prendo uno, direi Guarda Adesso se li ho, non c'ho gli sconti a mi pare Aspetta Finchè Ti ne affanculo C'ho Black Friday It's Friday day, the Monday, Sunday one 255 giorni, la Marty, oh la la Che pazienza che ha Io 740, iacchi Sì, che testa e guarda 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 You are a monster, bro Mi raggiungerete mai Non sei... sei quello che ne ha di più, secondo me Mi era torre? Che mo' si buttano? Eh, stessi, stessi, stessi Andrò Ah, ah Sono un'alpa, eh Torra Wow Non ho fatto un'alpa No, ho smesso di sparare Oh, mio dio Ah, chi c'è? Sono da 5 mesi la Marty Olè, flexa, flexa Sta flexando Marty da 353 Oh my god Oh my god Sono perso qualcuno Eh, c'avevi un soldino Da 8 mesi qui che mi supporta Ah, dai Che mi scavalca quando non ve... Nuova, nuova, nuova Detto, tetto Bravo, lì Un altro entrato, crackato Un altro gocciotto Quindi andiamo... 8 mesi che ti sopporti Eh, sì, è vero, anche quello Una dentro Qua, eh Troppo dalle scale Vai, un altro, un altro, un altro qua Apri, capri Ma dov'è qua? Capri, capri Non so Ah, l'ho visto È sotto qua, eh C'è un nemico Dalla porticina bassa Questa è qua, arbor C'è qua, arbor C'è la baciuccia, capri Anzi, c'è la cannuccia Fermati, let's go Tutti flex Sono adesso un chat Mamma mia Creu Non dov'è No ping, ahya, aė, prison Teniamo la drip Dove vuoi andare a prison top Bagni uno basso uno alto Confiammelo confermelo che mi fa rinascere quello basso Che sfiga ho però che hanno preso me corpo 2 Questi ti hanno preso Quello top Ah no no io ho fatto due po' sotto Eh no lo so È sopra ancora eh Lo sento Ho buttato un grappolo L'altro non me l'ha pingato Ah sì 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 è Cazzo Qua tipo verso Nova quasi Non so se era sotto Eccolo Tira Prendo l'autorex Il t-rex Possiamo fare di più di uova Tieni tieni Andiamo a Nova Andiamo a Nova Un attimo L'altro è sotto Qua dello shop Basso C'è bisogno di me Ultimi 5 Eh io sono ancora sul tetto Comunque Una e quasi 3 camion Coglione griffo Ne ho ben otto Siamo noi vi loro eh Tieni What Dove le hai fatte scusa Casa verde hai detto Casa verde Casa verde Sotto L'altro è qua Precisamente Secondo me Dal moretto Verso Nonno 2 Eccolo 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 Dove 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 Secondo me si arrestava però eh Non ce la facesse di arrivare lì alla zona Eccolo Eccolo Secondo me si arrestava però eh Non tre di scintelo Come on brody Comunque non riesco a capire l'NZ Tipo I primi 3 colpi scioglie C'è li cracka con 3 colpi Dopo Per mettere a terra la gente Nulla Ci mette altri 27 colpi Ma riesco a vincarca Perché l'hanno stranerfata Fra non fa più niente Suane grazie per il like Dopo anche Dopo si mette anche serpentina Ovviamente E continui a sparare avanti E che arma usi tu adesso? L'XM4 Quella era? No Beh Rega Se volete lasciare un bel follow per il monta Siamo cos'è 3.000 Dai cazzo Dai 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 E adesso sto usando Mi senti? No Buongiorno Ciao Sto usando tipo il KG, però niente. Il KG è lentissimo, per ricaricarci mette tre giorni. Prova, che adesso la riprovo anch'io, la Cooper, fra l'ho usata oggi, ti spappola la Cooper, te lo dico, carabina. Volkströmweger, sta bellissimo, la Volkswagen, arriva a 3.000 e offre da bere a tutti, è la madonna, cioè offrire da bere a 3.000 persone, minchia. Una bottiglietta d'acqua a testa, dai, 3.000. Mi sono lo stesso a 3.000 euro, porca troia. Se no, prendi il supermercato che mi vengono a 20 cento, dai. Ah, giusto. Onesto. Come togli il follow, Matti, vattene a fangu? Ti fai fare da tutti quanti una donazione. Dai non me ne fotte, toglimelo, Chris, ciao. Togliamolo tutti, così non arriva a 3.000. 8 mesi di sub, toglilo pure. Ma sapete che ci sono gli stronzi, eh, rega? Tipo quando mettevi post, è arrivato a 1.000, è arrivato a 2.000 follower. Me li toglievano poi, mi toglievano il follow. Quando facevo il post, no, finalmente è arrivato a 2.000, a 1.000. Oh, li toglievano, il giorno dopo lo voto 8 o meno. Pezzi di merda. Certo, per favore, seguite tutti, monta. Infatti adesso, prima di fare il post, aspetto, prima che siamo tipo a 3.020, 3.030, così, anche se me lo tolgono. Pezzi di merda, ci sono lo stesso. Finsa a te, va. Abdul, grazie per il like. Dai, dai, raga, come on. Guarda un attimo in bagno a svuotare il cateter, arrivo. Non posso neanche più mettere le canzoni, va, fanculo. Allora, stiamo in bagno a svuotare il cateter. Il pezzi di merda. Wow, wow. È stato un attimo in bagno a svuotare il cateter. È stato un attimo in bagno a svuotare il cateter. È stato un attimo in bagno a svuotare. Sì, vabbè. Kuului, vabbè. Tutto pronto. Sola di guerra di Aspettor. Good timing, my god, bro. Cazzo, monti, mi inviti quando lo dici. Minchia, bra! Lo sai che se è nerdo verso le 11 mi ti sa? Beh, mortacci! Wow! Non è vero. Minchia, sono giusto a singoli, è senza fare il merda. Sei un minchionis. Dai, Kri, vattene a fangugulu. Mamma mia. Mamma mia, che p***o che sei, bravo. Amma mia, che p***o. Sì, non c'è un minchionis. Sì, non c'è. Che p***o che p***o? Sì, io ti. Sì, l'ai un minchion. Sì, non c'è un minchionis. è gg questa si chiama timing si chiama teaming no sbagliato, ho ottenuto la wild girl c'è gente su piccola, parte su grande sotto grande Sottogrande? Sottogrande Sono chiesto bombarda pure io è one è one, tiottica tanto era one dai come stai Ponzi? tutto bene? l'avete fatto? Grazie per la mano dico un cane ancora attrattato vabbè vado a puntare giù ci metti 8 anni e 47 giorni chi ha? quanto? vabbè dammi un palco dammi un palco che spillata come cazzo mi ha preso a me che era tutto dietro non sembrava niente neanche quel fight non cazzo non cazzo non cazzo non cazzo no non cazzo non cazzo non cazzo non cazzo non cazzo andiamo 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 erai figa quanti sono? starvi una mano due ti ho devo arrivare nella aiè bene senza nonno se non sai mirare usa c'è un soldato nemico ce n'era uno sotto eh occhio qua delle scale oddio che è scammato scusate sono arrestato qua due sotto air strike occhio entra 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 blader c'è anche un cecchino sono nuovo è da voi eh vengo qua io ne ho uno fare 2 2 sopra una tratta sul bombolone ok ce n'era una sinistra verso la radio ecco la bombolone occhio che c'è il cecchino quello che trovi a terra dove sono la nova andiamo andiamo ad aiutarla male è esattamente qua ando da un sono due sensi avevi la aspetta ho anche ne ho dietro un bombarda qua da me no da dietro da no da tre prison dio siamo stati tutti col tempo oh non sono fatte adesso a sinistro autolombina vuoi arrivare spagarini oh si ve li ho chiamati ragazzi ma non armi di base eh non li potete pushare mi vado alloggi mamma mia che squaglia ma che che mi ha rubato le armi sotto 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 nonno 2 2 sono qua sotto sotto nonno uno per me UAB nemico attivo Ok arriviamo in 5-3 UAB alleato in volo, date il tiro a cazzo Infatti è un'ovvia raga Prendo prison, provo a farmi questo tipo Oh no, stanno bruciando i cazzo Rimanete in vita raga, Nova 2 team, eh? Sì, sì Eh Nova scusate, contro No, no, Martino Eh, dalla casa grande Anche dalla casa... Dove c'è la Daya Ci sono armi regali da voi? Qualcosa? No Eh, eravate splettate Dovete stare vicino Nello, grazie per il live Ma sul tetto si può prendere, sto load Sì, no Cosa grande Sì, no C'è gente sotto casa grande Eh Venga, serve una mano a cazzo Ok Eh, ma guarda giù, dai, oh Sotto grande Sotto grande Sotto grande, uno Eh, rosso Sotto grande, uno Eh, rosso Rosso Rosso, rosso, rosso eh Fatti fatti, qua ci sono robe Non ci sono, non ci sono, non ci sono, io l'ho pushato a rossa Ma ne sento uno qua, raga Mi serve una corazza o una cassa 36 metri front L'altro è precisamente qui E l'altro sulla stradina sinistra dello shop No, 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 c'è un altro qua, ping azzurro sinistra E l'altro ping azzurro destra Mi entri in casa? Ti entra in casa? E' one shot, porco tu è il tirato Bravo, bravo E' top, eh, top qua E' forte, eh, questo E' top, eh, sulla casa, è sulla casa E' lanciato un grappo Attacco a grappolo attivo Credit is safe GG E' top, eh, top, non c'è la giara le bestie di sana, ragazzo Game over, bro Game fucking over Let's go Bravi, raga, bellissimo game, eh, siete stati strabravi Ottimo Pietro, commenti per il like, bello mio Oh, ma che assalto puoi usare? Cosa? Che assalto si possono usare? Boh, io sto usando la carabina Cooper XM4, KG Che cuore GG dietro Build della mitraglietta Fantastica Te la faccio subito vedere, Raffaele Non è l'M13, l'M13, Nello, eh Se intendi quella che sto usando io È la carabina Cooper Se però a parte dici che l'M13 è fortissimo Sì, non è male Game over, brah Let's go Bene, raga, grazie per il follow Ah, ok, dicevi, a parte MP40 secondo me sfonda, raga Adesso, adesso la provo Adesso la rimetto sulla MP40 Allora, la build della metraglietta Ma la canna mettero comunque, è forte Questa qua, la metraglietta Raffaele Old school proprio, eh L'M4 è la seconda solda più forte, dici? Può essere Ieri ho raccolto un M4 da terra Cazzo scioglievo e darei mobile L'M4 Proverò Non l'ho provato oggi Però non mi ha dato tutto quel gran Venere in sogno Meravigliosa venere Perché 2.993 follow Dai, ne mancano 7, raga, dai 7 followers Allora, mettiamo MP40 now Eccola qua Eh, però chissà come buildarla C'è, 20 build ci sono GG GG devo riprendere ma che cazzo è la ride questa? non sono riuscito a metterla M4 che palle alle due di notte è ingiocabile ci sono i fenomeni fra le due di sera la mattina non tanti pochissimi sera pomeriggio è tosta venere andiamo ritorno 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 da te ritorno 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 a terra è a nonno, è a nonno, è a nonno, è a piano basso sopra di voi pittato non ho piastra, non ho niente sopra c'è qualcosa a terra non ho due dove sono martì? qua non ho più hai piastra, sennò non posso aiutare io c'è l'ho ma c'è l'ho ma no, è il basso fatto, fatto c'è l'ho ma c'è l'ho ma c'è l'ho ma stiamo faiutando qua sotto lì metterà M13, no M4, dopo lo metto Nello, la provo, va bene d'onde? c'è l'ho ma c'è l'ho ma c'è l'ho ma c'è l'ho ma che scampo c'è l'ho ma disegno qua sotto ce ne sono tanti ragazzi c'è l'ho ma 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 io vado allo d'out rega accontro il cn3 mi stanno inseguendo no 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 vieni a casona martin non dargli corda sei piastre o muni cecchino cazzo buttalo d'altro attacca le porte forti c'è ancora nel cazzo bisogna un bombarda, un grappolo dai mesi non è muni, è nato guarda lì, guarda lì, è gripper nata fuori, la dash è sciolta quanta non ci sono io? eh, c'è una mano però non puoi abbandonarmi qua così che li bussano sto cercando le piazza no, ho capito noi dobbiamo far avanzare entra sotto ti ha le washout no, ho sbagliato, Marti non devi lasciarmi da solo così no, io l'ho fatto si, ho capito, Mary è andata via e poi sei tornata mi hai lasciato contro quattro no, ecco da me uno Filippo, grazie per il light è nella casa, dietro, dietro bro quanti sono li attende che state fightando? io l'ho fatto uno, l'altro sotto sotto dove? eh, tutto verso... ce ne ho uno da me c'è un'altra sopra, c'è un'altra sopra, nella tassina... quella piccola secondo piano, basso, basso casono a destra casono a destra dalla torre quella security casono a destra casono a destra casono a destra casono a destra top nonno eh, sì, nonno, vabbè, raga io le poli non le puo più fare, dai, basta ci rinuncio casetta rossa, secondo piano, uno qualcuno ha delle piastre, qualcosa niente ma morono qua staccato mi fai a craccare c'è, boh nessuna piastre, davvero piastre, roba spesso innocato qua se avete un bombi tiratelo a un anno due casono c naturale casono a destra tassino anugati casono a destra obiettivo si pp e muni serve a qualcuno dove sta questo piano 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 parlate su? su dove? un apparato lì sopra nuova attaccato guarda uno qua qua dove? un muretto siamo nella zona scura togli l'altro pink verde togliati pink togliati pink ho trovato un punto non lo vedo amoretta che pal che pal ma perchè mi fa vedere su spotter royal? oh che troppo di merda siamo safe è noi vedete il muretto era morto ok sono quelli a nave occhio marty perchè pushy che c'abbia la safe e l'altezza saranno in tre lì ah sono in due bravi gg bravi gg bravi bravi minchia siete gasati oggi ah raga che succede? ma che è sta roba c'è blade 9 kill blade raga l'universo parallelo che succede? montani ti ricordo che il bot qua sei tu ahahahahah che strozzo però stai sempre sotto vedo anche di 900 danni eh eh vabbè eh avevo 3.000 di danno 2.000 di danno eh 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 mamma mia chi scurre Cristian grazie per la il bello dai mi sa che prego mingha vuoi te non ho detto chiamare un bot cribot infatti infatti così non avrei risposto sono solo Christian quindi ho detto cribot e il cribot tazzing dimmi quando e come va dimmi quando na na dimmi quando 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 non non dimenticare la metterci la metto su ma secondo me non me la farà usare sai perché se la metti nello doubt qua a volte te lo bagga proviamo 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 la m13 bra dimmi quando dimmi quando allora mettiamo m30 eccolo qua paf poi una bella una bella anche la che così facciamo un po' di salsa un po' di movement ha un bel type raga dai facciamo il type dai 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 cambiamo un po' Comunque per me sei il miglior streamer di questo game Complimenti E la madonna grazie Cristian Che complimentone Sei veramente gentile però Un bacione Tato grazie Basta che lo fai prima che scadono i 3 secondi E poi ti fai ammazzare Ok fatto Let's go baby Mi sa che faccio l'ultima raga Digi ha Digi ha mezzogiorno e dieci Digi ha broski Basta allenarsi Basta allenarsi Vediamo se facciamo una win E facciamo una One Ringrazio per il live Ok ragazzi perdiamo Vediamo l'ultimo Via Perfetto Ti riferiamo di potenza Vabbè te non dovresti fare troppa fatica Non ti dovresti neanche impegnare Da parti ovviamente È il suo involucro Ciao Erichio Si vince Si vince Stiamo giocando molto bene Devo ammetterlo Sono sbagliardita Strano Strano Troppo pompa Uno qua piccolo Due piccolo Due piccolo Due piccolo Sono tre a piccolo Sono a grande Io sono Sì Qualcuno vede Tocca Cosa? Gli altri sono tutti a piccolo Tre a piccolo Serve una mano a piccolo Una terra Un'altra piccolo L'ultimo 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 Si autoressa Uno Anche Yaki Stanno arrestando Le basiati Non sono restate Tutti Non sono tre giù Non puoi dare le scale Yaki Non posso Non posso Sei 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 in alto Questa Questa è una pochina Dai C'è chi non ha preso Dove sono Parlate Ultimo Grande Non me l'ha pingato Lui Nel computer Computer Raga Uno che guarda le scale Guarda le scale Sta scendendo Ancora sulle scale Vedo che gente dietro Attende Tu hai da aiutare Contro il martì Vai Dovete pushare insieme Raga Audio Audio Tu hai da aiutare Noi Ti abbiamo posto Non so Vai in nave Un seconda Sì Ancora Un altro Un altro prendo prison quale arma Marco? era la Marco sì Marco era la Marco davanti davanti qua Iati movimento è droppato ma io riguarderei quelli da control se avete le armi per pushare sono ancora a control non ho niente è interessante il team ora è una cosa che correva volete andare a control o no? cosa vogliamo fare? guarda uno qua cosa? vabbè push atto 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 no ma è una Cro però una mano nessuno con me proprio nessuno dove sei sei sotto sotto due sotto due bravi manca l'ultimo basso grande bravi 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 Bacione, tatò! Grazie per il beat supper, bro! È Barbie, a conto. DG. Era Barbie? Sì. Soldi per le piastre? Io non mi ho. Ma quelli che abbiamo appena fatto, Aesio. In strada. Dario, grazie a me. Uno è entrato? Quelli dove c'è verso sinistra, cannoni a sinistra. Oh, cazzo. Sotto, 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 tre entrati. Tre, 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 tre entrati. Chiudi la porta, Ale. Chiudi la porta, Ale. Arrivano? Salve una mano, raga. Sta arrivando. Oh, Ale! Eh, sono qua, Iachi, ma hanno tirato sul mondo, cazzo. Ho messo una a terra. Allora, hanno tirato subito, cipo cipo cipo. Dai, Blade, cipo 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 dietro, vai, 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 vai. Bravo, tappo. Oh, cazzo, cazzo di colpi. Sì, ce l'ho scritto, eh, non l'ho visto. Ale, non l'ho visto. È libero sopra, è libero. Sì, 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 ho capito. Cazzo, gli entravano i colpi. Bro, ti va a sparare. Ho capito, ho capito. No, gli entravano i colpi. Cioè, ci ho messo un caricatore per uccidere, non sto smirando. Bravo, 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 credo. È stato il tuo, bravo, bravo. Ma è fastidioso come faccio un po' di nuovo. No, no, no. Non ti vedete, è libero. Uh, la spende. Dove c'è il camion, più o meno. Ok, non c'è il camion. Ma è, si è bloccato. Dodo. Un altro qui. Uh, buttano, buttano. Tratto. Ti mannientato, ralai, ah, ok, ok. GG. Frega, qua tende ancora, eh. A terra. Ce ne sono due, eh. Sei qua dentro. Terra. Fatto. Bombarda. Top grande, mi sa che è atterrato, credo, eh. Prima gli dice su, e poi gli dice bravo. Cosa mi ha detto? Cosa mi ha detto? No, il solto. Roby, ma cosa mi fai? Cosa mi dici? Ma avete visto qualcuno? No. Bingo a prison. Bingo a prison, raga. Ci becchiamo. Eccoli, eccoli, eccoli. Cosa mi dici? Due e due. Là, ok. Un altro qua. Due e due prison. Terra, uno. Aspetto. Occhio, occhio alle scalette che stanno pingando là. Quelle scalette? Quelle a muro? Quelle sì. Te, a Blade, prima lo massacri. Dai, fai, ma spara e poi dai. Bene, bravo, eh, certo, certo. È così, è così. E' quello stesso Blade? No. Ti ti dicipo. Spara, spara, dai, cazzo. Bravo, eh. E poi da pochi lì. Fatti tutto, bravo, bravo. Oh, oh, oh. Da. Da. Questa? Questa? Ma l'avete fatto quello da scalinate? Da scalette, front? Io no. Io no. Io no. Io no. Ho anche un acqua di sotto, eh. Che merda con la mina, oh. Che merda. Carlate, eh. L'ho sciolto sotto a me qua. Non sei, abbiamo fatto la mina. No, ce li ho qua? Bravo. Sotto sotto, voi. Ok, ok. siamo quattro v2 possiamo fare un uovi niente 26 metri fronte a me due forse sono tetto forse sono sopra no no qua dalle dalle grade l'altro secondo me è top si si è top 4 di 1 si butta è tanto prendiamoci noi il muro blade tg let's go baby don't try this shit don't challenge the mountain's game game over bro game over let's go go out bravi raga grazie adriano è gentilissimo grazie per il complimento e raga vi ricordo che se vi fa piacere di lasciare un bel follow un bel segui al monta dai che siamo quasi a 3000 dai 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 let's go non è male nello la m3 marica finisco più o meno per ora adesso ne faccio ancora una finchè non perdiamo appena perdiamo stacco la m3 non è male non è male e così che nuovo record 5 del pomeriggio 180 wind in fila s 3000 e fu così che si andava avanti fino alle 5 del pomeriggio si cheat morti a casa cheat morti in volio da un cheat da blade il cheat ragazzi è lui eh già ma la martino la sento dal 43 avanti christ sì ci sono c'è che mi sblocca tutto ah ok è timida ps4 science 2000 ormai è da brullare proprio no non penso marica di andare al mare sono troppo nerd per prenderlo da tutti ci metto 10 secondi ma sai che anch'io da pc mi si blocca è proprio sto gioco che fa cagare è incredibile tranquilla che tre anni di sto gioco grazie matt per la condivisione bello venere suonio meravigliosa venere perché per il tuo id come facciamo ecco mi amo te lo mando adesso vediamo aspetta c'è così porco di mani ho sbagliato ah scrivi punto esclamativo id aspetta ci dovrebbe essere qua vediamo secondo me no ma vai 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 vediamo se è bene fuori ma la trova o non la trovo eccola sento il ticchettio eccolo lì va è uscito è uscito nello arrivate arrivate maiuscole minuscole così eh tatone prego nello grazie a te dai era probabilmente 13 per benino nel type bella daniel san grazie per like non ti piace non ti piace veder tipo matrix teletrasportarti alla go inizia la vera battaglia inizia la vera battaglia non ti piace non ti piace non ti piace maia la vera battaglia non ti piace non ti piace vip Ritur! Dai ragazzi! Come on! Oh mio Dio! C'è un pro di GENTA! Due due! Trac! 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 Eeeh... No one! Tutti i bassi! Tre bassi! Grande! Che schifo di arma Marti! Buttala via! Ho presa la Lidl quell'arma! Vado a tender raga dai! Lì non c'è più loot! C'è... Ce l'hanno loro! Dai! Ti confini a venire in mano! Sì! Mi dici sotto! Continuavo a cambiare arma! Mi sembra che puntava sempre sto dentro a l'astro! L'ultimo per mettere l'arco mi parezzava! Guardate che mi viene in mano! Dai un SMG Cristo però! Nooo! Dobbiamo fare l'Adi! Ce l'avete? Sto proprio io! Eh... soldi soldi raga! Uh! Da dietro! Aspetta casa azzura! Vede visto? Niente qua in mezzo di tende! Occhio anche da sopra dal muletto! Ah visto visto? Sto per accanto da sopra! Raga prendiamo il palloncino e andiamo... Ah! Ma non c'è qui il palloncino! Sopra! Eh! Avranno sparato! Da sopra da nonno! Sto per accanto da quell'Adi! La terra sopra qua! Caffanculo! Aspetta! Da sopra da nonno! Tipo! Passiamo su allerta se volete! batteria nemica avvistata crackati 2 no no ma io userai per contro che poi andrai su come sempre che dite a casa grande un altro sotto a casa grande uno dei cannoni a sinistra dalla strada ho visto ah va via 2 2 2 mi serve una mano fronte a me dai cannoni no piccatelo 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 ok 1 2 3 dai oh grazie ce n'erano due qua sotto lo avete fatti? no andiamo contro andiamo contro andiamo contro orca orca blade blade fai ua b blade fai ua b eh ho capito il bravo sono detto muove fallo aspetta aspetta qua 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 un attimo arrivo non attende non vedo sta entrando sta entrando sta entrando in control terra io andrei verso priso io andrei verso priso raga mamma mia quanti oh mio dio top priso non ho sparato venite venite su del spirito di me per favore mamma mia mamma mia per una mano fronte a me due e la madonna vabbè regale m13 da dietro blade ah l'hai fatta ma è a terra però ah ok infatti non so perché mi pingava la maletta era come se mi stessi mirando guarda me giù quanti meno due eh da lontano piccamo pingo due qua fallo quanti erano due due mi piccano mi pushano mi piccano mi pushano l'altra lì sotto a te sto pestrando non ci sono beh no ma anche a me non mi entravano arriva un altro team arriva un altro team arriva un altro team dove è andato dai ne manca una dai ne manca una bravi no si è arrestato mi piccashi non ci sono non ci va aiutano non ci va a segno Ah, così quasi un autorex? Io me lo farai, eh. Ah, sei proprio il vivo. Control? Oh my god! Chi viene con me? Uno sta salendo. Spaventato. Uno ha spaventato. Finistra, Yaki. Eh, vabbè, qua. Del ponticello. Grande, grande. Due, grande. Piccolo? Eh sì, scusate, piccolo. Fatto io questo. Due flyer, due flyer. Uno qua, dalle scalette per andare a nave. Ho finito in rosso. È entrato, è entrato. No, raga, ancora lì da mia pinga. Pinga hai detto questo? Da di loadout, due. Sono due lì da loadout che lo vedo. Marty, occhio 3-3, eh? Occhio sopra prison. Vabbè, immortali sopra prison, one shot. Da dentro sono due gym. Eh, vaffanculo, va. A terra sopra prison, uno. Beh, le scalette a muro. eeeh, ma quanta gente! Eeeh, ma quanta gente! Eeeh, ma quanta gente! Uno per me! sono da te marty non lo pingo più ora pisa lo pingo soprapris non messi tu a terra dammi i soldi marty dammi i soldi del sotto la torre nella casetta le c'è ci sono armi lancio bombo no da me ai bagni il quartiano vini su vini su vini su alle vini su se sono problemi di quanti ci sono eh non ti si sente frasso hai la voce che sembra quella 3v2 eh prendo nonno ho nonno vedo se escono eh no male occhio che ci muori così eh non starmi davanti blade richiede ha craccato uno e ce l'ha trovato rimbano quella parte base oh ii oh ii top army negros per like big bros game game fucking over bro no cap bro no cap g mother fader g e dai ragazzo spandigi g chatete lento come on time good night this is San de la polis this is San de la polis bella Christian gg no vabbè finchè non perdo io vado cioè non so ok dai fino a 5 di pomeriggio allora e la madonna no io posso massimo fino alle due credo un po' guardavo no vabbè ma nel caso morirò opposta vi metterò in difficoltà facendo le cose sbagliate così moriamo tutti si non ne prendo una raga non ce la faccio non ne prendo una non è che mi ha vinto grazie a te adesso se non c'erano il momento che si persa tutte le partite a cagare va mi chia cogo cosa c'ha da ridire spagliate e poi incontro e poi in realtà eravano tipo apriso eh quando vado su dai giri no ne capisco più di niente beh maאל puoi risolvere risolvere dicendo sempre qua da me e classico qua 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 Minchia Mamma mia che caldo sto pc inizia a buttare un po' troppa ria calda fuori eh Eh mi va bene per l'inverno Minchia Comunque la carabina è pentacolare Eh te la godi Orta droga Oh ma è sempre stata forte la carabina E' sempre stata forte ma ci sono sempre state armi dopo che l'hanno superata Quindi si usavano quelle ma Vabbè ormai tutte le armi sono state superate Cioè di base tutte sono forti a parte lo SCAR L'unica arma che è stata sempre un cesso è lo SCAR raga Cioè non è mai stata forte mai No lo SCAR veramente ha sempre fatto cagare Sempre C'è mai un nerd Ma andai che fa cagare sarebbe anche forte è che è lenta Fra è che c'ha tipo si ha anche 20 colpi nel caricatore 30 tipo ne ha un assalto con 30 colpi Eh vabbè ma con cazzo con 5 colpi sciotti Beh Però non è troppo lento da parlare Ho capito ti becchi Sì ma comunque smiri quando spari Non è che c'hai l'imelog sulla gente Che f5 colpi diventi sempre Eh ok Un caricatore fai una persona Al limite Ce ne hai già due No vabbè ma c'è uno bravo Che ha una bella mira Che ha una bella mira Piuttosto adora Loden Ah Libro 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 Li ho fatto uno, uno sul tetto, uno sul tetto c'è un altro che è super più, sarà in buccia due, due, due ancora uno, ok, ok stai restando, stai restando ce l'hanno tagliato a tre, eh? è ancora la taglia, quindi c'è ancora uno datemi i soldi che faccio l'addio che cosa? ma... dal tetto, forse col podiere pt, non so da dove mi mirano, mi mirano, mi mirano da nave, dal muretto dal muretto, dal muretto occhio, anche da sinistra, da sempre dal muretto muretto fatto, uno due a terra, al muretto cazzo, cazzo no, vabbè dai eh, marty, mi vesti alto eh, ti dispiace, non eh, cazzo, te, te, smonti eh, miglia, più barino eh, guarda, non fare il spinto eh, sì, andate a cagare ma, una pene più per me sì la penda che si alza sì ma hanno fatto qualche aggiornamento in questi giorni, non so però, mi sta sframmando questa partita Questa è la partita che abbiamo fatto, boh, mi si blocco in continuazione. Un'altra testa sul tetto qua di... Chi viene ha preso un con me? Cazzo il Serpentino! Eh, vabbè, il Serpentino è illegale, però, eh. Ma la mia sopranova è mini! Sì, vabbè. Uno qua. Guardate. Eh, vabbè. Uno nemici, uccidi lì! No, è l'altro! Non so che fosse lui, no! Eh, vabbè, basta! Ma come cazzo? Guarda, mi fa le final, mi fa le final, ragazzi! Sì. Eh, non ci ho aspettato. Guarda, ma lì muove sta gente, guarda che roba! Cazzo di... Eh, io ero... Cosa? No, non cinta, raga! Ma chi è? Budino? È budinisti? Eh, anche... No, bravo! Eh... Eh... Sì, forse è bravo, però la prima locata, non lo so, prima hanno fatto una roba un po'... Sì, bravo, non è, bravo! Però... Questo sì... Stava scappando, il sparo... Non ho due, non ho due, non ho due! Vediamo, vediamo. Magari è solo bravo, eh. Però anch'io mi sto... Non è... Non è... Non è... Stava scappando... No, non gli entrano i colpi! No, non è lui! Sta lobby è strana, no, no! Potrebbe sembrare Cosmas, secondo me è sta lobby, raga, che sframma, che laggia, e fa vedere cose strane. Vieni qua, vieni qua! Ho metto delle partite e non mi ha finito la roba, tipo... No, no, è sta lobby che fa schifo, raga! Boh, io ho potente, ho detto, sto... Io gli ho sparato, sta scappando, gli ho sparato, si può sentire... Mi ha dato in testa a diretto, a diretto proprio! Magari ha avuto la fill, lo shot fortunato! Ehm, andiamo a Nova? Che dite? Che fama? Sono un piasco! Top Nova, top Nova! Top Nova! Come stai Anthony? Qua in mezzo alla strada! Qua in mezzo alla strada! Quascio! Se non le ho da altre, dietro, eh! È quello, è quello! È quello! Che l'ho fatto, era lui? No, adesso... Che mi chiesero, non no, eh! Come una lo dà! No, sta vivo! Mamma mia cosa gli ho fatto a questo, ragazzi! Mi vedono! Mi ha colpito! Se ne vede! Mi ha colpito! Mi hanno colpito! Mi hanno colpito! dov'è sul tetto ancora ragazzi no magari sono bravi si si fai quello fai quello martedio dove 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 no non lo vedo e ce l'hai lì vento dove stai ale wipa 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 beh wipa c'ho il loadout in mezzo al cazzo niente certo antonina ma vaffaculo va hai lasciato i soldi si si hai lasciato i soldi che facciamo un po tutti l'autoress ma porca non si apreppare cadute ma che gioco di merda casa grande casa grande casa grande ale ci sono i soldi però per farci l'autoress è tutto cazzo arriva 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 ma che sopra il load questo no ma tutti lì di casa oh cazzo vabbè il monazza e sopra ce l'ho dato il draga occhio ah l'ho detto quando vedo ma dai ma cazzo ma ancora sto boot in iniz a terra qua che a me è zitto via soft non so quello che vedi quando ho sparo prima ci arrivo le scale ma mirato fino a un'alito è vero a pushare così qua marty sono anche quelli in a casu se vengono a triad blade aspettami un attimo che arrivo lì con te dietro di te ce ne sono altri non era del team di questi qua no no full team a casona full team si si un'altra 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 avrete appena digetta nuova sono da solo a pushare qua a casona però a mortacci i ragazzi Cosa aspetta? Cosa aspetta? Io sono in safe eh Alia, devi venire qua per favore Mi serve una mano Eh, c'è un team che mi corre dietro Ok, 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 che arriva fuori da qua Ah, fanculo Tutti pro game Oh, potremmo andare subito in safe e fanculo questi Raga, ditemi voi Eh, forse ci conviene, si andiamo Beh Era una nuova, eh, gli altri di questo qua Andiamo a nonno, eh Mettiamo nonno, raga Dove? Andiamo a nonno, andiamo a nonno Ah, ok Eh, ci prendono da dietro Sì, dai, dai Vai, vai, vai Restati, restati Eh, però c'è uno qua Cazzo A terra uno sopra nuova Eh, andiamo a fare voglia nuova Eh, andiamo a fare voglia nuova C'è 20 soldi per restarne uno Arrivano altri, arrivano altri, arrivano altri Guarda di te Guarda di te, guarda di te Blade Dagli solo un occhio, non piccare Però dagli un occhio Posso andare a giardino? Un occhio Un occhio Un occhio di nuova Tra cazzo Cazzina di merda Vabbè dai Qua è assurdo, dai Ti ha fatto da f***a male Dove l'avete visti, raga? Da nuova ancora Nuova sta facendo il giro? Tipo qua C'è un nemico Va bene, va bene Calma, calma, raga Andiamo a prison, andiamo a prison Prendiamo prison, raga Subito, subito, subito Non fate giri strani Andiamo qua Prison top, eh Dove erano? Sopra torre? Avete detto Sono qua Movimento Sopra torre uno Sopra qua, sottetto Non ho cato uno lì Ale Non c'è 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 Tg Oh my god Bro Oh, stiamo tricendo tutte Uuu Vabbè, stiamo trajardando come dei Minchia Mattia, grazie per il like Bello Madonna raga Boh dai è luna basta Se no figa Invece no Devi furgare e figa non la perderemo Ma quanto ne abbiamo andato? 4 di fila Ma è successo Ma ciò si era 5 Porca miseria le vincete tutte le quando vi guardo Mamma mia Stiamo qua con l'asciugamanino e il Gatorade Però eh Eh no Fin che non perdete si gioca Non posso raga Devo andare a studiare Abbiamo portato un buon contenuto però Non pensavo durassimo così tanto MVP per lamarti Ragazzi Pro game Mattia Mattia grazie per il like 5 5? In fila Dai rega io stacco Grazie per il game Siamo stati super bravi Complimenti rega Adrian grazie per il follow Alla prossima Bella rega buona giornata Ciao ciao Buon pranzetto Ciao belli Ciao ciao Adrian grazie mille per il follow Non lo sono meritato Dai rega Io vi ringrazio per la compagnia Spero vi siete divertiti Noi ci becchiamo sempre domattina Sempre dalle 9 Sempre dalle 9 Fino a mezzogiorno Più o meno Va bene Mezzogiorno luna Vabbè gli orari sono sempre questi Io vi ringrazio Vi auguro una buona giornata E un buon pranzetto Va bene Bella rega Buon weekend Bella rega Se vale bene Me lo mostri M13 Certo Aspetta Tieni brotherhood M13 Eccola Eccola rega Ugo Grazie per il live M13 Bro Prego raga Mi raccomando Godetevi questa bella giornata O sennò Nerdate come dei draghi Let's go Ako M14 Apo Apo